salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di bundle 2 bene andiamo pure avanti facciamo quella zona che non avevamo visto nuova che ci permetterà probabilmente di arrivare qua e qua poi finiamo anche questa e vediamo tutte le quest che ci sono che sono pronte a darci ok vediamo un pochino salve quanta bella roba inutile perché non c'era proprio niente va bene andiamo pure dunque la cresta più o meno speriamo che non sia di sopra sarà sicuramente di sopra vabbè intanto esploro perché qui ricordo bene di dover fare diverse quest così almeno sono già tranquillo ho come arrivarci e siamo a posto oh l'ho mancato due volte si se non mancassi sarebbe ancora più soddisfacente ok perfettico sto usando il nuovo microfono dovrebbe andare meglio l'audio non dovrebbe più grattare quando ci sono i toni un po' più concitati ecco così dovremmo essere a posto poi presto avrò il pc nuovo che porterò un sacco un sacco un sacco di giochi sperando di farcela perché ho intenzione di prendere portare diversi giochi belli che prima non potevo perché non avevo il pc abbastanza potente adesso l'ho fatto uno completamente nuovo da zero con l'ultimissima tecnologia di qualsiasi cosa quindi con una 3090 per farvi capire di scheda video e tutto il resto che poi vi dirò in un video con le specifiche varie ok andiamo pure tu sei molto simpatico si ma con questa pistola pistola con questa cosa faccio poco perfettico vediamo se loro riescono oh ma anche con questo interessante ma qui c'è tanta 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 gente sì sì ti è trattata mi stanno bagattando ragazzi mi stanno bagattando eh lo so purtroppo eh non era la mia ora mi venite anche addosso ci ha detta così brutta brutta però nel senso avete capito cosa volevo dire perfettico quanta gente che c'è simpatica porca miserica è un bordello senza fine qui ok altri? siamo a posto oh posso girare con calma non ci credo ok 100 altre voci eh perfetto richiamo questa è una quest che poi faremo appena ce la da vediamo se c'è qualcos'altro tutta roba che è utile perché abbiamo usato un sacco di munizioni e di qua non si può andare però qui c'è tanta gente simpaticissima proprio come al solito scusi lei ah c'è morto non ne sono neanche accorto ma sta pistola ci regala tante emozioni eh è la miserica ma mi si è venuto dietro ma mi vengono tutti dietro sti mostri eh che cavolo non si fa così vedete che davanti almeno mi vedo oh ok cavolo ma ce ne è un altro dietro no era lui che era molto stronzo scusi lei oh grazie si è morto oh mi serve la vita grazie ah ma lei è qui ecco che sembrava che ne avessi uno dietro non riuscivo a capire dove oh quanta bella vita mi hai dato ok dovremmo essere quasi a posto mi fa tanto piacere oh quello non è sopravvissuto intanto si 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 dopo ci pensi o me adesso prendi questo oh ma sta pistola è veramente bellissima ragazzi è una soddisfazione unica oh ma salve ma lei rimane così fermo mi fa piacere per carità e non è che sono tanto noioso le dico no insomma si chiaro no parlato italiano ci ho capito un caso però va bene lo stesso interessante credo sia qui la zona per salire quanto ho perlustrato di sotto questo mouse l'ho perlustrato tutto manca questa zona qua e questa zona qua però volete che in un modo o in un altro non ci congiungiamo a quelle zone vediamo cosa c'è di bello qua dai tante cose che non ne avessi vista mezza o saveridio quanti ne abbiamo che prima ce ne ha dato veramente tanto con quella cosa del suicidio non lo vedo più adesso vado a ricordare dove cavolo si vede 35 ne abbiamo pochissimo si vede che l'avevamo usato tutto perché c'è dato 32 solo una quest quindi si vediamo cosa c'è di bello i denti non escono più non esce più nessuno cosa c'è una fame di item se mi esce qualcosa di buono io sono sempre pronto è uscito un cazzo però accidenti ok la crea vediamo le cast come si ha messe allora mouse una è qui sicura ma al 100% e l'altra di qua quindi io voglio provare a prendere quella là adesso andiamo qua vuoi che se scendo non c'è un modo di salire ci sarà un modo di salire penso più di qua adesso andiamo a vedere se facendo la stalla normale troviamo modo di scendere in modo senza mattarsi aspettarsi le coscie guarda qui c'è eh meno male perché quando parli te insomma si eccoci qua mi fa tanto piaciore ma sto coso qui super mini ok golia mini golia mini vabbè andiamo a posto vediamo cosa c'è di buono è tanta roba ok scusate vediamo un po' oh ma oh ma salve accidenti no pistolina che è meglio va ok ho sceltato in aria ma ma nessuno mi vuole invitare per un caffè quando a tutti quanti che vi vogliono vedere morire o qualcosa di peggio allora qui c'è qualcun altro per me è di sotto ok quindi ah le scale ci sono bene dai allora se scendiamo c'è anche un modo per risalire mi fa tanto piacere allora vediamo un po' niente ancora carichiamo guardate la quest che siamo a due passi siamo a due passi che sia quella si può salire si 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 può salire chi è che mi vuole vedere morto ma ci senti che che cattiveria ma si facessi così con te ma si uccidiamolo è morto meno malo dai mamma mia quante gente te ti fai così così almeno non rompi le balle poi te fai così e così oh certo che da lontano fa molto meno danno chi è che mi spara tempo di morire si adesso me lo segno mi scusi leppo ecco qui ma smettila non si fa così ecco qua è andato qua basta combattere così serio come serio devo raccontare la banderetta mentre sparo insomma non è facile insomma pure sto cercando ma non ne vedo mezzo oh c'è uno del gioco che sta facendo il suo lavoro beh io andrei un attimo qua visto che ho la quest la prendo oh salve mi ha fatto prendere tanta paura lei aspetta un attico ma ok bene andata andiamo a dire qui cosa c'è chi è chi è lo salve lei è quello di prima adesso lo facciamo così oh c'è tanto lui si diverte mette lui si diverte io andrei a prendere un po' di roba qua e saliscerei qui ok la cresta finalmente non ci credo ci siamo arrivati vediamo cosa ci chiede allora prendiamo tutto perché non si sa mai ma c'è anche una bella roba lì l'ho vista oh sa di ridio mi è stato piacere trovarla ok adesso vediamo la cresta oh una mappa del tesoro non lo troveranno mai non troveranno mai il mio tesoro era Old Haven non più mio dispersa la mappa data ai banditi nessuno lo troverà mai pare che quel tipo parlasse del tesoro perduto dei banditi di Old Haven se scovi i pezzi della mappa puoi essere il primo a trovarlo sembra che i pezzi ce li abbiano i banditi ma non c'è modo di sapere quali continua ad ammazzare i banditi e spera per il meglio ricordo questa questa è un po' un casino perché non tutti i banditi ce l'hanno questa mappa è pure casuale però se noi entriamo se ne abbiamo ammazzati tutti nel caso ipotetico non avessimo trovato tutti i pezzi basta uscire rientrare e si risetta la zona e possiamo tranquillamente trovare tutti i pezzi mancanti e quindi è una cosa molto piacevole molto bella il problema è che se ammazziamo in punti molto lontani non ce ne accorgiamo prendiamo la pappa quindi dobbiamo stare anche molto attenti poi ho già fatto la mappa del tesoro e sono contento quattro pezzi non sono tanti e che purtroppo bisogna avere anche un pizzico di fortuna perché non esponano molto facilmente questi pezzi ok ho preso uno mi fa piacere ok perfetto quindi c'è qualcuno qua è morto no è qua guardate il mitra ovviamente se non prendo la mira con questo tipo del giro di mitra è un po' casino oh salve si 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 morici morici oh che bella coscia oh ma salve che gentili venire tutti da me uso anche un po' di altre armi dai sempre le stesse se no ok perfetto giusto per provarle ok non si capisce un caso la miseria ma che che astrosità che avete questo è ancora morto mamma mia quanta vitalità che ha questo tipo ok morti tutti perfetti un pezzo di mappa ragazzi molto tempo fa c'erano questi tizi i crimson lens che lavoravano per l'atlas corporation hanno cercato di ucciderci è stato divertente il tesoro che cerchi apparteneva all'ultimo di loro per lui sembra divertente quando qualcuno cerca di ucciderli ok è data insomma un pezzo l'abbiamo trovato ne mancano tre vediamo guarderci di buono vediamo guarderci di buono c'è tanta roba allora prendiamo ancora un'arma proviamo con la pistolina qui la roba che esplode ovviamente lo preso in più ma è una scala quella vediamo un po' se è vero vediamo tutto quello che c'è da prendere vediamo se è una scala è una scala si si vediamo lo scudo dai che ce la fa lo scudo vero lo casso mi ha risposto mi ha bagattato vabbè eccoci qua mi fa tanto piaciore no ce la facciamo no vi preoccupate che ce la facciamo ce la facciamo vero ora dove ero rimasta adesso aspetta un attico va che mi ammasso tutti e siamo tutti a posto ma perché mi dai dello schifoso questo qua non si dice così ah c'era quello vivo gli ho dato un colpo da panico poverino mi dispiace tanto ce l'ha fatto malo ok scusate che qui c'è un po' di impedimenti vari lo troviamo bene ma perché se c'è qualcosa che mi sfugge è un attico qua per delle cose allora andiamo guardate quanta roba esplosiva c'era questo cos'è? mod vedete che si competre si competre insomma quell'italiano è una volta è riuscito bene adesso è morto per strada si potrà avere più sfiga? porca miseria quanto gli odio i bidoni eh vabbè amen andata purtroppo il bidone mi ha ucciso sì ma ci fanno tanto male porca miseria ok adesso ho perso un miliardo di dollari come minimo 16.000 ok oh mi è dato così taglio faccio prima e vado da questi qua perfetto sì sì tempo di boom oh che bella coscia benvenuto in morte come benvenuto in morte ah beh se se si doveva delle razioni hai fatto bene a matarlo insomma ma ma tu oh ci si sono un amico oh cosa mi ha dato ci sono contento dai oh porca mi sono cacati in mano mi sono trovato all'improvviso lì ovviamente quella c'era un bidone che mi è esploso perché come al solito figuriamoci ci si arriva da tutti il golianano è andato male no che c'è un bidone lì tra le mie spalle una mappa interessante una vita proprio eh accidenti a loro ti ucciderò io si si mettiti in fila che qui c'è tanta gente che mi vuole bene porca miseria chi c'è chi c'è porca vacca ma porca miseria guarda te se si può essere più animali ok è andata vediamo chi c'è altri qui c'è tanta gente qui ci sono già passato cavolo ma è pieno pieno di gente si si questo ci muore ok eh si si mi fa piacere allora allora oh poverino quanto mi dispiace altri eccole eccole poverino lei va molto con cautela ma glielo do io la cautela lei eccoci qua siamo posto la metà un po' la precisione del mouse magari ci aiuta sembrerebbe che ci sia un po' di pace qui vediamo se c'è qualcosa siamo attenti perché ci sfuggire perché ci sfuggire farci sfuggire dalla mappa è un attico abbiamo già due pezzi ma così è troppo preciso va ok andiamo qua scusate se sono morto ma insomma morto da pirla proprio da pirla pirla ok qui dopo c'è un'altra quest che speriamo di che facessi così col cazzo buon risposto ok ma guardate quanti bidoni ci sono è pieno di bidoni ok perfetto sì 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 arrivo arrivo mamma mia quanto sono astrusi ok salvato dove siete dove siete stardi eccoci qua mamma mia che potenza inalata che hanno mi mancano due pezzi di mappa ma sicuramente non li riusciamo a prendere quindi niente perfetto andiamo di qua cerco di ripulire tutta la zona ma ho l'impressione che non ce la facciamo a trovarli cosa c'è qui oh il video bello soldi qui non c'è niente non vedo altra gente probabilmente dovrò resettare la zona però cerchiamo di prendere tutto lo stesso perché magari l'abbiamo presa e non ci siamo accorti che era droppata qui non c'è un cazzo qui si sale il motivo non lo so guarda qualcosina c'era in anni non escono mai accidenti peccato allora ah vedete che c'è qualcuno vedete che c'era qualcuno perfetto morto facciamo così perfettico e così eh si abbastanza si esplosa la testa eccoci qua e anche questa è andata poi l'altra quest intanto che facciamo questa per vedere un po' dov'è è sempre dritta quindi ci provo lo dai vediamo cosa succede così almeno le prendiamo tutte e poi possiamo con calma farle e un po' di soldi che li ho persi un'altra che si sale ah ma si va di sopra beh dai ne approfitto e di sopra c'è l'altra cresta sì 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 bene 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 aspettate un attico va che questa sapete sono già morto una volta ok oh mi vogliono essere tutti bene qua ogni volta che arriva da qualche parte mica ciao come va ma lei è nuovo no no mori porca miseria eccoci qua mandone mi sparano da tutte le parti eccoci qua no c'è parla talpa talpa parla talpa è rimasto lì si è offeso poverino quanto mi dispiace ecco qui chi è che mi ha porca miseria ecco qua oh oh ma allora ce l'avete in comando ma non è ancora morto porca miseria ok adesso questo qui uscirà ma sta arrivando tanta gente dal radar oh finalmente lei è riuscito ci è fatto un po' desiderare perfetto questo fucillo è buono perché anche senza prendere la mira è abbastanza preciso una cosa molto positiva per un fucile da cecchino ce n'è un altro eh l'ho preso da panico aspetta che non mi basti il mouse mi ha fatto un volo incredibile allora vediamo un pochino devo salizionare un altro pochino però vorrei un attimo andare qua sì ma che cattivo che sei ok ci siamo no io ho fatto la capocchia che va bene mi porta l'ho mancato due volte è stato pure tre volte bingo accidenti detto che mi ha detto battle dopo che gli è sposo la testa oh salve ok è morto anche questo oh salve porca miseria robito con la pistolina usiamo il mitra mi spacchi coi denti mi spacchi ci ho dispo rispetto ad un attimo che c'è della vita qua porca miseria che figa sì adesso me lo segno porca vacca il mitra oh andiamo a prendere la vita va ok mortastico mortaccico come perché sparare fino adesso mi avete di quanto ho detto di morire adesso perché sparare scusa non ho capito bene la proposta che mi hai fatto ma è un anno duro questo oh oh non ho visto cosa mi ha dato ma non mi sembra niente di buono adesso ci guardiamo ce l'abbiamo quasi faccionato ne manca uno solo ok eccoci qua oh la mappa la mappa la mappa alla mappa alla mappa finalmente dopo qualche settimana Roland e Lilith sono andati a Old Devon e hanno sterminato il resto dei lens i soldati continuavano a parlare di un tesoro un bottino nascosto da qualche parte interessante questa storia molto interessante allora dobbiamo salizionare adesso ci salutiamo ragazzi siamo quasi arrivati che bello sono contento va tanta fatica alla fine già abbiamo faccio un'altra ossi un po' di vita va che è meglio eccoci qua la cresta finalmente l'abbiamo trovata perfettico signora questa signora che è di sopra è ma scema che cativeria ok buona bella a posto il mercato in fiera di sotto no io qua adesso non scendo c'è sicuramente un modo per salire me lo ricordo adesso lo troverò e vi farò sapere voglio vedere un attimo velocemente l'arma che abbiamo preso prima vediamo un pochino anche mi sembrava bella però adesso va te ricorda qual era quale fosse penso più questa o questa che però sono normali forse questa era però no mi sembra un tanto buone mi ha dato un nano mi aspettavo qualcosa di meglio va bene ragazzi pazienza io come al solito vi invito alla sala un like un commento se vi piace alla serie e di farmi sapere cosa ne pensate e per adesso ho un video sotto la cima ciao 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 ciao